Anche per il 2019 l'Istituto Neuromed si classifica al primo posto tra gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico per la percentuale di pazienti che si rivolgono provenienti da altre regioni, oltre l'84%. Un dato che sottolinea ancora una volta il livello di eccellenza raggiunto dalla struttura morisana che da anni rappresenta un punto di riferimento per tutto il paese. Ma nel rapporto ricerca corrente 2019 del Ministero della Salute vi sono anche altri dati che confermano il livello di eccellenza raggiunto dall'Istituto di Pozzilli. Tutti gli indicatori utilizzati nell'analisi ministeriale mostrano come Neuromed si situi di sopra della media nazionale con punte di eccellenza non solo cliniche ma anche nel campo della ricerca. Neuromed eccelle in modo particolare nella qualità della ricerca, sia riguardo alla ricerca nelle neuroscienze che nella ricerca cardiovascolare, in particolare correlata alle patologie neurologiche. Questo rapporto, dice l'ingegner Fabio Sebastiano, consigliere delegato alla ricerca dell'Istituto, conferma come Neuromed sia una realtà importante in continua crescita nel panorama clinico e scientifico italiano. Il Ministero della Salute ha certificato quella che è la qualità della ricerca del nostro istituto. Confermando anche quest'anno una serie anche qui di parametri fortemente innovativi su quella che è la capacità intanto di attrazione che il nostro istituto ha su scala nazionale. Siamo i primi all'interno del 51 IRCS su scala nazionale ad avere una capacità di attrazione superiore all'80%. Parametri che confermano che cosa anche? Capacità di attrazione di fondi, quindi capacità di creare rete e soprattutto di investire su processi di internazionalizzazione dell'impresa. Questo è in grado di attrarre chiaramente numerosi ricercatori, numerose aziende farmaceutiche che continuano a investire sull'istituto per l'appunto. E soprattutto poi conferma una qualità anche della ricerca che viene effettuata quotidianamente. Il nostro lavoro è quello di continuare ad investire su che cosa? Sulla creazione di nuovi protocolli diagnostici e terapeutici con lo scopo principale di creare una maggiore efficacia per le cure dei pazienti. Soprattutto per i pazienti che provengono poi dal sud Italia di evitare quella che è la migrazione verso i paesi del nord creando quindi anche in questo un valore aggiunto. Grazie.